Parliamo di questa due giorni del FAI, 19 e 20 marzo, Abruzzo e Molise, tanti luoghi da visitare nell'ambito di questa 24esima edizione. Apriamo quest'anno una serie di luoghi lontani da quelle che sono le principali sedi che abbiamo usato negli anni passati, quindi abbiamo lasciato i nostri capoluoghi e ci siamo andati ad addentrarci invece nei piccoli centri. Questi piccoli centri sono un po' il nostro fiore all'occhiello, sono qualcosa di assolutamente ricercato all'estero. Ci sono oggi delle situazioni che si sono create anche in America dove il modo di vivere e il modo della fruizione della vita nel nostro Abruzzo è stata addirittura inserita nei primi posti al mondo come qualità. E questo è qualcosa che dobbiamo mantenere, tenendo conto che aggiungiamo a questa qualità della vita anche la bellezza di quelli che sono il nostro ambiente, che sono i nostri paesaggi, che sono i nostri piccoli borghi, che sono i nostri parchi nazionali. Abbiamo praticamente tutto da mostrare. L'importante è che ci rendiamo conto del valore di quello che abbiamo e soprattutto quello di renderlo sempre più fruibile e quindi con un vantaggio anche di ritorno economico su queste cose, perché sviluppare il turismo sulle nostre coste, sui nostri monti, nei nostri parchi, nei nostri borghi è quanto di meglio ci sia per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie.